Da Rifondazione Comunista e il consigliere regionale uscente, Piero Manni, fotografa un cambiamento epocale per il mondo della sanità pugliese. Dalle pulizie alla mensa fino al 118, il portierato alla guardiania, tutta quella serie di servizi che normalmente vengono svolti tramite appalto ai privati, saranno gradualmente resistabili dalla sanità pubblica. Una battaglia, spiegano il consigliere regionale ed il segretario provinciale del partito, che Rifondazione Comunista porta avanti da ben due anni. Questa è una battaglia che primo si inserisce nella battaglia regionale del governo Vendola di eliminare per quanto è possibile il precariato. E si è fatto molto in questo senso, non soltanto nella sanità. In secondo luogo, questa battaglia particolarmente delle internalizzazioni, noi di Rifondazione l'abbiamo avviata due anni fa. Infatti la società di Foggia, che è stata la prima, era già stata costituita da un anno e mezzo. La stabilizzazione degli 8.000 precari, 1.000 solo nel Salento, è un passaggio importante ma molto resta da fare, spiega ancora Piero Manni, che però attira l'attenzione anche sulla difficoltà del processo. Avremmo voluto che a costituire la seconda società in house della Puglia fossero infatti precari della sanità salentina, ma dopo Foggia viene invece Taranto nell'Eccese. Per ora ci sono delle resistenze, spiega il consigliere. Sono che la legge non stabilisce i tempi, vincola i direttori generali a costituire queste società, ma non ci sono tempi, non ci sono priorità e ci sono forti resistenze. Oggi sulla stampa ho letto della Confindustria regionale che ha dato una valutazione estremamente negativa di questa legge.